Max Blardone in Abruzzo un giorno, buongiorno Max, 7 vittorie in Coppa del Mondo, oggi in versione istruttore nazionale per il corso della regione Abruzzo, intanto ti chiedo una tua impressione su questa bella regione. Sicuramente la prima cosa è buongiorno a tutti e grazie soprattutto ai miei colleghi per l'ospitalità, sempre ben accetta, è sempre un piacere ritornare comunque in realtà come queste perché comunque magari meno conosciute per quanto riguarda l'ambiente dello sci, ma comunque sia delle realtà bellissime da scoprire perché a pochissimi chilometri dalle città, dalle città più grandi d'Italia, ci sono delle stazioni scistiche davvero molto interessanti come questa. Stai abbinando il tuo lavoro di istruttore nazionale nel pomeriggio a Rocca di Cambio per presentare il tuo progetto per aiutare Amatrice, un libro che racconta con le foto, con le immagini la tua carriera, il ricavato sarà in beneficenza per Amatrice. 24 agosto 2016, terremoto, tra l'altro siamo in Abruzzo in provincia dell'Aquila e qui di terremoti purtroppo ne capiamo qualcosa. Purtroppo sì e di fatti ci siamo legati moltissimo, in primis è stato il mio fan club, è giusto precisare questo, il mio fan club si è reso disponibile chiaramente di comune accordo con il sottoscritto nel realizzare questo volume fotografico di 180 pagine, quindi un volume importante, che racconta quello che è stata la mia carriera da bambino fino all'ultima gara di Coppa del Mondo. Un progetto che vuole attraverso le immagini, quindi un discorso anche molto emozionale, molto d'impatto, trasmettere dei valori, trasmettere speranza, trasmettere comunque sia dei passaggi fondamentali e anche che ognuno di noi trascorre nella vita. Quindi questo è stato un progetto che abbiamo sposato inizialmente con una realizzazione, poi l'obiettivo era quello di realizzare questo progetto per una raccolta fondi e successivamente ci siamo, grazie a degli amici in comune, ci siamo confrontati con il sindaco Sergio Pirozzi, una persona disponibilissima perché è giusto precisare anche questo, in un momento così difficile è una persona sempre al telefono, costantemente al telefono e non è facile raggiungere, lui si è reso disponibile, in tre giorni ha riunito tutta la comunità, tutta la giunta comunale, ha cercato di capire quale poteva essere così anche la volontà dei cittadini non solo proprio comunale e c'è stata questa richiesta, questa volontà di realizzare secondo loro una pista in sintetico e quindi questo progetto ovviamente arrivando da uno scettore non poteva essere un discorso collegato allo sport e in particolare al mondo della neve.